Ho deciso di scegliere te come direttore. Farò del mio meglio, signor presidente. Ma che roba è? Sono droni! Lei è accusato del tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti d'America. Il miglior angelo custode è caduto stanotte. Mi hanno incastrato. Non mi fermerò finché non avrò provato chi è irresponsabile. È inutile che ti nascondi. Non preoccupatevi di trovare me, perché sarò io a trovare voi. Attacco al potere 3 Al cinema